ora è possibile completare le operazioni di creazione dell'account sviluppatore quindi siamo tornati sull'home page di google play clicchiamo su qui vai a play console e andiamo di nuovo, mi propone di entrare nel mio account io ovviamente ne sto creando un altro prendo sempre la solita mail e questa volta non mi dirà di fare la doppia verifica perché l'abbiamo fatta con questa mail e quindi andiamo a scegliere l'account il tipo di account, personale o per attività chiaramente noi ci occuperemo ora di quello dell'attività anche se non ci sono grandi differenze l'unica cosa è che per registrare un account legato ad un'attività quando si va a mettere la mail per la conferma per la conferma dell'account che è un ulteriore dato di conferma bisogna mettere una mail professionale cioè una mail di quelle legate al sito internet per esempio il mio è www.servizioconsulente.rd.it e io dovrò mettere una mail che dopo la chiocciola a servizioconsulente.rd.it c'erano tre e metterò una di quelle però per registrare un account di un'attività serve una mail in quel modo altrimenti se ho una mail di google mail di yahoo o di altro devo registrare un account personale andiamo a registrare un account di un'organizzazione o di un'attività quindi qui mettiamo tutti i dati che mette di default per tutto quello che normalmente facciamo su internet che spesso ci riempiamo campi del genere quindi via Ermanno Wolf Ferrari 4 50 127 Firenze quindi vado a mettere il mio sito internet copio l'indirizzo lo inserisco qui mi mette di default yahoo ma abbiamo detto che non va bene io metterò una di quelle mail prisma software piocciola servizi e consulenze.rd.it e qui nel telefono bisogna aggiungere il più 39 davanti prefisso dell'Italia altrimenti non va bene quindi prima di accettare i termini bisogna verificare l'indirizzo mail e il telefono con i soliti codici che ci arriveranno che dovremo inserire qui quindi cominciamo con la mail verifica l'indirizzo mail ecco che è stata inviata una mail con un codice al mio indirizzo mail andiamo a register eccolo webmail andiamo a prendere il codice google il codice è 865582 quindi 865582 verifica verificato verifichiamo quello con il numero di telefono sblocco lo smartphone 087106 087106 verifica ho verificato entrambe le cose telefono e mail accetto i termini e le condizioni e vado a creare e vado a cliccare su crea l'account e paga c'è qualcosa che non va manca la provincia perché non è stata scritta non è stata pescata dalla tendina crea l'account e paga anche nel numero di telefono sopra serve il prefisso dell'Italia davanti quindi andiamo a mettere più 39 tentiamo ancora crea l'account e paga ecco che ora va tutto bene quindi qui adesso per creare veramente l'account cosa che io non farò perché ora io ho già l'account e quindi vedremo come si inserisce un'app sull'account sviluppatore dal mio ovviamente qui dovrò andare a pagare questi 25 dollari è un'account di